Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale! Oggi vi voglio parlare di una delle cose più belle che possono succedere qui su YouTube, ossia una collaborazione. Questa tra l'altro è la mia prima collaborazione con un'azienda, che appunto si chiama Songmix e vende vari articoli di vario genere. Prima però di iniziare a parlarvi di questa collaborazione di cui sono estremamente felice, voglio fare una piccola parentesi e ringraziare una ragazza dolcissima che mi sta seguendo da qualche mese su Instagram e anche qua su YouTube e che veramente è meravigliosa, che si chiama, il cui account Instagram è GeorgieOfficial04 ed è una ragazza veramente meravigliosa, mi sta dando un sacco di consigli, è sempre una ragazza molto propositiva e mi dice sempre un sacco di belle parole. Veramente è una ragazza fantastica, quindi se volete andarla a seguire o se volete insomma vederla su Instagram, seguitela perché è veramente una ragazza molto 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 carina e quindi io ti mando un grandissimo bacione e spero veramente che continuerai a seguirmi perché sei una ragazza meravigliosa e mi arricchisce veramente avere dei sostenitori come te. Quindi ti ringrazio. Chiusa questa parentesi velocissima, volevo assolutamente parlarvi di questo prodotto, di questa prima collaborazione, sono felicissima di essere riuscita ad ottenere una collaborazione con un venditore e soprattutto questo tipo di venditore perché fa prodotti veramente di alta qualità, è un marchio che io avevo già utilizzato e da cui avevo già comprato ancora prima di avere una collaborazione con lui, quindi sapevo già la qualità dei materiali che venivano utilizzati e sapevo già che era un venditore affidabile. Il cui marchio è il Song Mix, comunque vi lancerò giù nell'info appunto il nome completo e dovrebbe esserci scritto anche da qualche parte. Comunque il venditore si chiama Song Mix e è un marchio che fa un po' di tutto, fa tante cose, vendo un sacco di oggettistica in generale e una delle cose che io adoravo di più di questo sito e che avevo già comprato e sono stata felice che mi abbiano dato la possibilità di comprarne un altro, è questo meraviglioso organizer. Io ovviamente l'ho utilizzato per il make-up, come potete ammirare, qui, l'ho utilizzato per il make-up principalmente perché ho veramente tantissimi, tantissimi trucchi, ne sto collezionando veramente tantissimi e diciamo che prima utilizzavo le scatole dell'IKEA perché erano comode, li mettevo di tutto, però era più il tempo che spendevo a cercare ogni minima singola cosa, ogni singolo oggetto, ogni singolo trucco di quello che riuscivo poi a trovare. Quindi, questo vi assicuro che è veramente, veramente un oggetto molto comodo, molto utile e assolutamente versatile perché io, come vedete, lo sto utilizzando per il make-up ma può essere benissimo utilizzato per gli smalti, può essere utilizzato per la beauty skin care generale, può essere utilizzato per tante cose, anche per i gioielli volendo, quindi assolutamente ha varie funzioni ed è troppo troppo carino. Io l'ho scelto nella versione nera ma so che sul sito c'era anche una versione tendente a rosso e una bianca che io ho già trasparente dove potete ammirare appunto tutti quelli che sono le cose contenute appunto all'interno dell'oggetto ma stavolta ho preferito prendermela nera perché pensavo che ci stesse meglio abbinata appunto la mia camera da letto e poi perché mi piaceva anche il fatto che non si vedesse proprio tutto quello che conteneva quindi lì va un po' a gusto personale. Questo oggetto meraviglioso è componibile, infatti è fatto da due parti come potete vedere, una parte praticamente è un pochino più articolata mentre la parte sotto è formata da 5 cassettini, due un po' più piccoli e altri due un pochino più grandi che appunto vi permettono di contenere sia le palette per gli occhi che magari delle piccole palettine o delle cialde appunto di ombretti oppure le cialde come queste qui che appunto contengono gli ombretti in crema o gli eyeliner in crema quindi sono comodissime. Come potete vedere ha ben 15 contenitori che vanno tutti dai 3 cm a una profondità di 5,5 cm e sono veramente comodi perché vi permettono di suddividere i trucchi in varie sezioni in modo tale da sapere perfettamente dove è ogni singolo trucco e non stare veramente a perdere del tempo soprattutto se avete una vita frenetica o se avete tantissime cose da fare, il tempo per truccarvi si riduce al minimo avere già una postazione makeup praticamente fatta e finita dove vi basta guardare per prendere l'oggetto che volete senza dover cercare fra miliardi e miliardi di scatoloni è veramente veramente comodo e io ve lo straconsiglio veramente è una delle cose più comode che io ho in assoluto e secondo me più utili la cifra e il link per andare ad acquistare questo meraviglioso prodotto ve lo lascerò giù nel box informazione se vi piace questo prodotto se vi piace la recensione che ho fatto di questo prodotto e vi piace soprattutto il mio canale fatemelo sapere giù nei commenti e soprattutto tramite un like io vi aspetto sempre come vi dico ogni volta sulle mie pagine facebook e instagram soprattutto su instagram perché vi ricordo che è la pagina che io seguo maggiormente in cui carico tutti i miei outfit e dove carico veramente la mia quotidianità quindi io vi aspetto su queste pagine ma soprattutto iscrivetevi a questo canale se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e su tutti i nuovi video io adesso vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video ciao!